Buongiorno Buongiorno Maestro 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 David David E' il ottobre 2022 E' il sondaggino E' il mio padre E' il mio padre E' il mio padre E' il mio padre Inllo Teste Questo Perché Questo è solo il p.m. e la resta è l'anima di 21.6 a 22.0 e questo è il standard di mezzo per questo periodo e questo mezzo è stato molto, molto, molto soft e questo è il periodo dell'autombo 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 ma è un'importante cosa questa atmosfera è detta in questo momento il periodo dell'autombo In generale, è un'atmosfera che mi sembra che non si scia. Quella, solo il segmento, solo il film. E' una cortina, solo un nuovo shooter, ma da solo questo, come se fosse sempre, non è sempre il film. E' un'ottima, questo è un'ottima. che ho pagato il mio GX 6940 e PG 625 E va un great day in url via lo faccio con le cellule di waters è stato sultati in grado un po' di questo e il finale ho fatto una volta Grazie mille, grazie mille, grazie mille.